Bentornati su canale, oggi siamo qui per il ritorno dei film in poche parole Questa volta abbiamo il primo capitolo di film thriller in poche parole Ne avremo 30 come al solito, cominciamo con il primo che è 127 ore Thriller ottimo, trovato da una steva vera con un gran James Franco E la lotta tra lui e un sasso, dove uno dei due ci ha rimesso qualcosa Volete una mano per capire chi ci ha rimesso qualcosa? Numero 2, Shut In Film che hanno visto in 12, giustamente, io sono uno di quelli Con un buon cast che praticamente però ti piega per il culo Per tre quarti di film, fino al colpo di scena finale, super colpo di scena Che disintegra completamente i film, vissutando un film sui files invalidi Non mi disturbo affatto, arrivederci Numero 3, Animali Notturni Thriller di grande effetto, raccontando in maniera molto intelligente Che finisce con la vendetta più raffinata e perfetta della storia Numero 4, Regali da uno sconosciuto The Gift Buon cast per un thriller che sicuramente non è memorabile Che però regala un crescino di suspense e angoscia da perdere la testa Numero 5, Revenge Un thriller che ovviamente parla di vendetta Total Girl Power Che si lascia guardare Nonostante metta a due a prova il vostro stomaco Numero 6, Enemy Un doppio Jack Gyllenhaal in un thriller psicologico che ti intrippa il cervello Con un finale classificato tra i più enigmatici della storia del cinema Ovviamente il numero 7, Seven Trailer pazzesco sui sette vizi capitali Rappresentati tutti egregiamente Soprattutto gli ultimi due Con uno dei finali più scioccanti e strazianti di sempre Chiudendo perfettamente il film Numero 8 Abbiamo Cell Film con John Cusa che è Samuel L. Jackson Talmente brutto che sembra parte di un brutto incubo dopo il pranzo di Natale Ma vi riguarda il finale Numero 9 Abbiamo l'onda Chi è nato dal 97 in poi Questo film l'ha sicuramente al 100% visto alle medie Da una parte dai giovani validi insegnamenti sulla dittatura Dall'altra può portare all'emulazione E infatti è successo Numero 10 Disturbia Film thriller carino con un buon Shia Lebrouf Però che dimostra però che fare i guardoni Spiare i vicini e ficcanasare ovunque Non porta grandi benefici La noia è una brutta bestia Numero 11 Io sono leggenda Film visto da miliardi di persone Che mette d'accordo tutti su La bravura di Will Smith in questo film qua La discutibilità degli effetti speciali La durata troppo breve E soprattutto le lacrime versate per la morte del cane Aperte a chiuso in parentesi L'anno prossimo è il sequel Numero 12 Science Uno dei film più inquietanti Di Shyamalan Con data tensione E anche qualche buon jumpscare Anche se adesso fai fatica a vederlo senza ridere Dopo aver visto Scary Movie 3 Io ho un sogno Quale sogno? Avere un sogno Vincerò quella battaglia di rap domani sera Battaglia di rap? O Gesù, Giuseppe e Maria Tu mi odi solo perché sono nero Tom Vigere gli alieni Ah benone L'aeronautica militare è arrivata con i nuovi aerei circolari Signore Non abbiamo aerei circolari Dio quant'è eccitante Lei è eccitato sentisse i miei capezzoli Numero 13 Abbiamo The Village Film che sfoggia 121 generi diversi Con il solito plot twist alla Shyamalan Che da una parte lancia un bel messaggio Dall'altro al cinema ti viene da distruggere la sala cinematografica E al numero 14 abbiamo Il Buco L'unico film al mondo che riesce a farti venire una fame allucinante E a fartela passare per settimane nella stessa scena Numero 15 abbiamo Unbreakable Film che non sembra arrivare ad un punto Fino al classico plot twist di Shyamalan Che si svela essere un film sulle origini di un villain e di un eroe Con un finale molto intrigante E al numero 16 abbiamo Split Un maestoso James McAvoy dai mille volti In uno dei film più riusciti Di Shyamalan che altro non fa Che mostrare tutte le personalità di un essere umano Durante un singolo giorno Soprattutto il lunedì E al numero 17 abbiamo L'amore bugiardo Gone Girl Thriller ad alto tasso di colpi di scena Bugie e tradimenti Con una relazione non molto stabile In una gara su chi è più subdolo e meschino Consigliatissimo E al numero 18 abbiamo Shutter Island Indubbiamente uno dei film più misteriosi di Martin Scorsese Forse non il suo migliore Ma il finale secondo me Regala uno dei colpi di scena più belli di sempre E al numero 19 abbiamo Inception Indubbiamente uno dei film più originali Di Interessante di Christopher Nolan In un mix di subconscio, intelletto, azione Con un finale aperto Giusto per rendere lo spettatore così E' tutto a posto E' tutto a posto piccolino Ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo sta succedendo? E al numero 20 abbiamo Mine Un survival movie Riuscito secondo me ad alto tasso di tensione Che però sul finale Può causare bestemmia lunga gittata Con forti raffi che diventa Aspetta che mi calma perché Chissà che non mi incazza Aspetta che mi fermo un attimo Aspetta che mi fermo un secondo E al numero 21 troviamo Now you see me Bel film che starizza non poco L'occhio del prestige Comunque che con tutti i suoi trucchi Riesce a tirare fuori dal cilindro Un film divertente Che sul finale regala la magia definitiva Ok ho finito E al numero 21 abbiamo Now you see me Due ovviamente Sequel meno magico del primo Che però comunque Riesce a tirare fuori Qualche buon ass nella manica Come per esempio Usare Daniel Radcliffe In un film di magia Dove lui non fa il mago E al numero 23 Abbiamo Prisoners Il mio thriller preferito E uno dei miei film preferiti Non so cos'altro raggiungere Al numero 24 troviamo Film che sinceramente Non mi è dispiaciuto tanto Un po' esagerato E a tratti improbabili Ma però apre gli occhi Sull'uso eccessivo Da tecnologie E dell'intelligenza artificiale Risultando Non troppo impossibile Sinceramente Numero 25 Money Monster L'ha copiata Julia Roberts e George Clooney I protagonisti In un programma televisivo Che secondo me Non è andato esattamente Come doveva andare Numero 26 Abbiamo la cura Dal benessere Film molto interessante Con atmosfere claustrofobiche E gioca anche molto Quei riflessi Se ci fate caso Sul finale però Cambia completamente Di genere Rovinando Tutto il lavoro Fatto prima E risultando Quasi impossibile Da apprezzare In pieno Al numero 27 Abbiamo Searching Thriller incredibile Incredibile Girato tutto Con un iphone E una fotocamera interna Di un computer Che parla Del rapporto Tra genitori E figli Ma anche Tra adulti E tecnologia Devo dire Che sul finale Mi aveva fregato 28 Abbiamo Morgan No non questo Morgan Questo è perfetto Eccolo Thriller Da cassa stellare Che dimostra Per chi non l'avesse Ancora capito Che creare Artificialmente Essere viventi In laboratorio Non è mai Una bella idea Al numero 29 Abbiamo Segnali Dal futuro A mani bassissime E uno dei film Più interessanti Con Nicolas Cage In un crescendo Però di assurdità Che però Finisce in maniera giusta Ovvero con l'estinzione Della razza umana E al numero 30 Abbiamo Non è Un paese Per vecchi Il peggior taglio Di capelli Possibile Per il miglior A via Bardem Possibile Che tra testa E croce E il suo Ammazza buoi A proiettile Captivo Detta legge In Texas In uno Dei thriller Secondo me Più belli Di sempre E questi erano I 30 film Thriller In poche parole È stato Difficilissimo Fare questo video Perché con i film Horror Film da trovare Cagati Da dire Ce ne sono tanti Perché film Horror Bavuti Ne abbiamo A Iosa Io ne ho fatti Tre Di film In poche parole Potrei fare Neanche 20 Se volessi Se volessi Io ovviamente Ma Ho voluto Questa volta Fare Questo film Thriller In poche parole Visto che comunque Nei commenti Me l'avete chiesti Un po' Non so Scrivete nei commenti Cosa ne pensate Di questi film Se siete d'accordo Con la breve D'esamina Che ho fatto Se volete Un secondo capitolo Dei film thriller In poche parole O Se volete A parte Questa Prendis È cosa che farò A prescindere Se volete Magari Non so Film di fantascienza In poche parole Film D'animazione In poche parole Scrivetemi Anche nei commenti Cosa volete A riguardo Di questi video Di film In poche parole Pagina facebook Profile Instagram Iscrivetevi al canale Mettete un mi piace Attivate la campagna Delle notifiche Ci vediamo Poi siamo dati Con il dalle In poche parole Tra da uno Di Dio Ma Dio Mi invasive Dio Grazie.